Il lupo sorpreso nella zona dei colli di Pescara, immortalato mercoledì sera davanti al McDonald da un cittadino che era nella sua auto, potrebbe essere radiocollarizzato al fine di verificarne i movimenti con più accuratezza. Quello dell'altro ieri è il terzo avvistamento da gennaio segnalato dai cittadini nella zona della Madonna dei Sette Dolori, spiega Simone Angelucci, responsabile dell'ufficio veterinario del Parco Nazionale della Maiella, con cui la Regione Abruzzo a novembre ha firmato una convenzione per la gestione dei casi di animali problematici in aree urbane, come quello del lupo di vasto. Al momento l'animale, che probabilmente dalle aree boscate di fosso grande accede al quartiere antropizzato dei colli in cerca di cibo o nei suoi giri di controllo del territorio, non risulta essere né confidente né problematico, ma è al centro dell'attività di monitoraggio preliminare del territorio, che servirà a capire se sia il caso di catturarlo e munirlo di radiocollare per studiarne comportamenti e spostamenti. Operazione certamente non facile, considerato il contesto antropizzato che prevede estrema cautela. Ma intanto, cosa fare in caso di incontro ravvicinato con il lupo? Lo abbiamo chiesto a Raffaele Bisegna, tecnico veterinario specializzato in telenarcosi, che in molti ricorderanno come colui che è riuscito a sedare il leone di Ladispoli sfuggito da una gabbia del circo. È certamente questo un chiaro segnale dell'intensificarsi dello scontro antropologico tra fauna selvatica e uomo, che si sta sempre più evidenziando anche in altre zone e aree del nostro paese. Parliamo per esempio dei cinghiali, ma anche di avvistamenti di altri animali selvatici un po' in tutto il territorio nazionale. Il lupo si trovava lì, in quell'area, in quella zona, nei pressi di una nota catena di ristoranti internazionali, perché era evidentemente alla ricerca di cibo facile e, essendo un animale intelligente, comprendendo che lì c'è la possibilità di trovarlo più facilmente, chiaramente si è avventurato in quella zona. Quali sono le raccomandazioni? Innanzitutto, in caso di avvistamento, restare tranquilli. Il lupo tendenzialmente non attacca se non si sente disturbato o stressato da noi umani. Quindi non suonare il clacson a seguirlo con la macchina o a piedi, bensì di allontanarsi gradualmente senza urlare, strillare o correre, perché sarebbero dei segnali che il lupo potrebbe interpretare come minaccia. L'altra raccomandazione è quella di tenere a guinzaglio i nostri animali domestici, perché chiaramente la presenza di un nostro animale domestico a quattro zampe che si dovesse avvicinare al lupo potrebbe mettere in pericolo noi e ovviamente anche il nostro amico a quattro zampe. Un'ulteriore raccomandazione, questa fondamentale, è quella di non dare da mangiare agli animali selvatici, perché si avrebbe la nefasta conseguenza di interrompere, di modificare la loro catena alimentare, essendo i lupi cacciatori diretti dei cinghiali. E questo porterebbe a delle conseguenze disastrose, addirittura condannando il lupo a dover vivere per sempre in cattività.